Ben trovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, nuovo spazio settimanale nel quale raccontiamo le storie di vita e soprattutto le storie vocazionali. Quest'oggi all'interno della nostra rubrica Un frate per amico è venuto a trovarci Frantonio Belpiede. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, pace a tutti. Grazie Frantonio perché hai accettato molto volentieri di dare il tuo messaggio soprattutto ai giovani che sono in ricerca vocazionale. Noi vogliamo che questa rubrica sia una storia di vita che possa essere anche storia e sicuramente una bella testimonianza. Chi era Frantonio Bambino, da dove vieni e quali erano i tuoi sogni nel cassetto? Io sono pugliese di Cerignola, che è la città di Giuseppe e di Vittorio, quindi epica dei diritti civili. Il primo sciopero generale d'Italia nel 1904 è stato organizzato per i morti di Cerignola, la città di Nicola Zingarelli e di altri personaggi grossi, da Giuseppe Pavoncelli a Giuseppe Tartarella. Tutta gente viva. Sono nato in una famiglia profondamente cattolica, figlio di due terziari francescani, papà Nicola che è morto nel 2007 e mamma che è ancora viva e inferma. Tutti e due hanno superato i 60 anni di professione nell'Offs, quindi da ventenni, da ragazzi proprio. Per questo in casa tua si è sempre respirato l'aria francescana. Uno dei primi libri che io ricordo è Universalità del francescanesimo, non ricordo nemmeno l'autore, era un libro di papà che non era un professore universitario, era un perito agrario, quindi aveva i suoi libri ma non erano migliaia di volumi. Però tra questi volumi al primo posto c'era questo libro sul francescanesimo con in copertina questo dipinto straordinario di Murillo con San Francesco che mette il piede sul globo, sul mondo e si avvicina con la bocca al costato aperto del Cristo. E' una cosa che mi tocca l'anima oggi ancora di più perché so cosa vuol dire. Quindi questa è un'icona della mia infanzia, mamma Maria lo stesso e i sogni, i sogni, io vorrei dire solo una cosa, più che i sogni, le sensazioni. Ci pensavo in questi giorni proprio ancora, ogni tanto ci penso, un pomeriggio di primavera del 64, primavera estate, io avevo sei anni e correvo su Piazza Duomo, una bella piazza con una bella cattedrale a Cerignola, e col vento fra i capelli avevo... e mi ricordo che io improvvisamente mi sentia amare, io sapevo di essere un bambino amato da Dio, cioè io sentivo che Dio mi voleva un bene dell'anima, in effetti non mi sbagliavo. Quindi i sogni non avevo, poi gli altri sogni, i sogni... Cioè ognuno nella vita soprattutto da bambino perlomeno ha un sogno nel cassetto oppure si chiede da grande cosa voglio diventare? I miei sogni si sono sviluppati direi nell'adolescenza, comunque non erano sogni molto determinati, io volevo fare l'avvocato, forse volevo fare il giudice, non lo saprò mai, perché in effetti poi ho finito questa laurea in giurisprudenza che avevo cominciato da laico, da giovane francescano, da giovane terziario francescano, perché io a 18 anni, nel 76 ancora con la vecchia regola dell'OFSO, ho fatto la professione, era ancora TOF, ho fatto la professione nel terzo ordine francescano. E non dovevo essere molto normale, perché un ragazzo sano di mente a 18 anni, in quel terzo ordine, che puzzava di naftalina, stiamo faticando per ringiovanirlo da molti anni, non poteva, dico in maniera paradossale scherzando, però entrai lì anche con mia sorella Giuditta, più giovane di me di un anno e mezzo, perché formati a questo francescanesimo profumato, profondo, serio, dolce anche direi. E cioè tu comunque frequentavi il convento, la cerignola. Il sogno di mio padre, con il mio, era quello di stare all'ombra del convento, perché quando nel 1968 riuscì a comprare con uno degli ultimi mutui non indicizzati, perché fu fatto in mutuo a luglio del 68, e poi dopo l'autunno caldo, quindi due o tre mesi dopo, tutti i mutui furono indicizzati. Avendo fatto mutuo non indicizzato, l'interesse che dovevi pagare per vent'anni perdeva potere economico a mano a mano che scorreva il tempo. Quindi fu una benedizione di Dio. Trovamo questa casa, che era la nostra casa paterna, vicino al convento, e mio padre era felice perché stava all'ombra dei frati. E i guai sono cominciati lì, con questa promiscuità spirituale. Ecco, e poi la scelta, la decisione tua, come è nata? Ma questa è un'attoria molto bella, in cui io c'entro molto poco. Cioè ho detto sì evidentemente, però... Hai risposto. E io ho risposto, ho risposto, non me ne sono mai pentito. Ho sempre mantenuto dubbi sui gusti del Signore, ma in cui ho avuto sempre gusti strani. Ha scelto Davide, che non era uno stinco di santo, ha scelto Abramo, che era un vecchio, che stava quasi per Rottamare, insomma, qualcuno, scherzo, perché fra l'altro Matteo Renzi, per questo lessico non parliamo di politica, ma mi piace molto, anche per la sua modernità. Comunque, forse era da Rottamare, Abramo e Dio ha scelto Abramo, poi ha scelto Davide, ha scelto altri tipi strani, ha scelto Geremia, che promottava sempre, ma tanta gente strana, gente normale. Ha scelto pure una vergine come sua madre, non si fanno queste cose in genere, no? E così lui ha scelto anche me. E come mi ha scelto? C'era una marcia da Assisi a Roma nel 1975, che era l'anno santo, indetto da Paolo VI. Paolo VI era il nostro Papa, io avevo nemmeno 17 anni, partecipammo con due amici della Gifra di Cerignola e con altri 150 ragazzi di cinque continenti a questa marcia da Assisi a Roma. C'era un compianto, grande frate conventuale, Massimiliano Mizzi, maltese, un uomo molto buono, di cui ho un gran ricordo, Monsignor Patrizio Karol Ebbing, che era un monsignore irlandese, e fondatore della città dei ragazzi, che sta ancora a Roma, via della Pisana, vicino al nostro collegio internazionale, fra l'altro, non molto lontano. E quindi, niente, io ero un ragazzo normale, vivace, guardavo le ragazze, pregavo, ma guardavo le ragazze, con scarso successo, il successo arrivò poco dopo, che mi fidanzai, insomma, un annetto dopo nemmeno. E c'era questo uomo, un giovane papà di poco più di 30 anni, che veniva da Pittsburgh, Pennsylvania, dove è nato il Catholic Charismatic Renewal, il rinnovamento carismatico cattolico. È nato nella Duke University di Pittsburgh, proprio nel 1967, quindi pochi anni prima, quando un gruppo di professori universitari cattolici cominciò a pregare, invocare lo Spirito Santo, come nel Libro degli Atti si diceva, si è formato un movimento che c'era più di 100 milioni di persone, dicono, nella chiesa cattolica ed è trasversale anche a diverse chiese protestanti. Allora non si sapeva niente di questi, loro stavano con noi, una quindicina di questi, con un fada Gas, questo frate Gas e Agostino, diminutivo di Agostino, e una sora francescana che erano state in Vietnam, quindi gente tosta. Insomma, domenica delle palme del 75, Assisi Foligno, lunedì santo Foligno Spoleto, martedì santo Spoleto Terni, su questo tratto, questo viene, un uomo qui è, questo Bill Vales, pregava il rosario, questo viene mezzo al 150, piglia proprio a me, per dirla in inglese, piglia proprio a me e mi dice, you shall be a priest, tu diventerai sacerdote, tu devi diventare sacerdote. E Sant'Agostino dice, timio dominum transeuntem, temo il Signore che passa. Qual è stata, a 16 anni e mezzo, la prima volta in vita mia che ho sentito con certezza nel mio animo che Gesù Cristo passava, infatti ho avuto paura, infatti soltanto 4 anni dopo sono andato in convento, ho avuto altri segni, mi sono fidanzato con una ragazza, ero innamorato e credevo onestamente di sposarmi con lei, una ragazza di Cerignola, invece poi con altri eventi che sarebbe lungo dire, il Signore è venuto e quando tu ti rendi conto che è lui, sui gusti suoi nutro ancora di Gesù, ma sul fatto che mi hai chiamato, no, allora hai detto tu mi chiami, sono fatti tuoi e sono partito. Ecco, a casa tua, la tua famiglia, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, le tue sorelle, come hanno accolto questa tua decisione? Mamma, papà, i più grandi, cioè Giuditta e Salvatore, mio fratello è il terzo e abbiamo due anni e nove mesi di differenza, quindi in America li chiamano Irish Twins, cioè gemelli irlandesi, che non sono gemelli, ma li facevano ogni anno, come gli italiani, quindi eravamo tre vicini d'età, i miei genitori e i due fratelli più grandi hanno capito in uno spazio dalle due alle quattro settimane, cioè subito, i piccolini, Mattea e Vincenzo ci ha messo di più, anche perché non coinvolti, i piccoli non sono mai troppo considerati, Mattea aveva, che teneva, 14 anni e Vincenzo 9, per cui... Ecco, ma i tuoi genitori, tu hai detto che loro erano francescani, erano inseriti all'interno del convento, come hanno accolto? All'inizio furono scioccati, perché... Non se l'aspettavano o secondo te... Non se l'aspettavano proprio, non me l'aspettavo nemmeno io, perché nel 79 io disse alla ragazza che tornava, lei studiava a Milano, all'università, e quindi quando ci si vedeva per le feste era una gioia, due ragazzi, insomma, fidanzati, voglio dire, e poi io dissi, no io devo partire, devo andare da capo a questa stessa marcia, si faceva da Assisi a Roma, perché là sono stato provocato dallo Spirito Santo, la troverò una risposta e la trovai, la trovai, tornai e dissi, devo partire, i miei genitori mi erano scioccati, papà mi disse, ma figlio mio, ma dimmi una cosa, ma qualche cosa, questo nome della ragazza, e poi mi disse, papà, scusa, avessi litigato con lei, ma hai visto quante donne ci sono al mondo? Questo è giusto, e si convinse. La scelta dell'ordine dei frati minori Capuccini è stata naturale? Ho avuto qualche secondo di esitazione ad Assisi, perché poi sono stato, il Signore Gesù mi ha sedotto, come dice Geremia, usando anche le sorelle Clarisse, cioè io sono entrato in un monastero di Clarisse a Perugia, dove c'era questa donna immensa che si chiama Chiara Augusta Lainati, con lei che ha curato tutta la sezione di Santa Chiara sulle fonti francescane, una donna di cultura immensa, ha sofferto molto, rivolgo a questa sorella il mio pensiero, il mio cuore con grande affetto fraterno, e quindi in questo monastero fui folgorato, quella volta aspettavo io lo Spirito Santo, non c'era neanche l'americano, bisogna stendere un velo sul segreto del re, però entrai, ragazzo di nemmeno 21 anni, in questo monastero, mentre c'era una celebrazione, sentivo un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, durò molto la messa provinciale dei frati minori, che stava là, grande frate, anche Giulio Mancini parlava molto bene, facondo, e io mi sentivo violentato nel mio intimo, un po' come avrei letto dopo, un po' come è capitato, si licet parvacum maioribus parare, ad Angela da Foligno, l'altro, cioè, tu ti senti in vai da una presenza e dici dove vai, tu mi appartieni, fai quello che dico io, ho capito, sono uscito e trovai questa suora Clarissa con tutte le altre dietro alle grate, era di una bellezza rara, chiaro Augusta, lui aveva 39 anni, ma sembrava ne avesse 25, sto volto, questi occhi scuri, incorniciati, un frate che mi accompagnava, un frate minore, ed era porziuncola, mi vide, mi vide, me lo disse dopo, mi vide tutto bianco per questa invasione pneumatica dello Spirito Santo, e disse così a Antonio, non lo stai bene, io che dovevo dire, disse che mi facevano allo stomaco, infatti anche allo stomaco mi facevano, non lo so, era una sentazione mista fra dolore e gioia, una seduzione spirituale profonda, perché il Signore le fa queste cose, quindi se vi capitano, non abbiate paura, perché seduzione, attrazione, timore, voglia di scappare, stanno sempre assieme, il resto è come quando uno si innamora, se ti innamori c'è pure paura di perderti, l'amore vero ti sconvolge, ti fa sbattere con la macchina, non ti fa andare più bene a scuola se sei un giovane, gli adolescenti vedono le stelline, nei film, nei cartoni di massa, le stelline, nei cuoricini, non capisci niente, i pianeti che girano, e quindi questo mi disse, ma Antonio cos'è? Dice, non stai bene, si fa male allo stomaco, poi disse, chiaro Augusta, questo è Antonio, un ragazzo di Foggia, di Cerignola, e questa, buongiorno, buonasera, come stai? E' un po' tosta, dice, cos'è Antonio, il signore ti chiamo e tu vuoi dirgli di no? Allora mi ripigliai, sbattei, adesso c'ho il dito un po', sbattei un cazzottone sulla mensola di pietra, davanti al parlatore, e disse, no che non voglio dirgli di no, ma lui non può trattarmi in questo modo, mi piglia e butta giù come un cencio vecchio, come si fa nei balletti della mala parigina, vi ricordate, l'uomo con la coppola, la donna con la calza velata, buttata a terra, quella che si attacca al pantalone, mi sentivo trattato così io da Dio, no? E lei mi guardò, questo può servire forse a qualche giovane che ci ascolta, lei mi guardò con una commiserazione immensa, con grande affetto, ma con la commiserazione della sorella maggiore proprio, dice, ho capito Antonio, tu sei uno di quelli che aspetta una telefonata o il telegramma di assunzione del Dio, sta tranquillo che non ti arriverà mai, o tu parti come Abramo e ti fidi o resterai sempre tutta la tua vita indeciso così come sei adesso? Cioè, mi ha finito di parlare, c'è ragione, mi sono detto, ma c'è ragione, è così facile, infatti io sono uscito di là, era il 24 aprile 1979, io non avevo ancora 21 anni e non sapevo, l'avrei saputo dopo, che quel giorno era la festa non solo di Sant'Erminio che è il patrono del monastero di Perugia, ma era la festa del nostro cappuccino, San Fedele del Simaringe, che era avvocato, e io sono un giurista, grande predicatore, io cerco di imitare i grandi predicatori, li imito, sono un predicatore del Vangelo in diverse lingue, poi è stato anche martire, ma speriamo che questa cosa venga rispettata, se no, spara manbitte, è il soprannome tipico di noi frati di Cerignola, che mi è stato più volte con la tenerezza tipica dei frati, attribuito, sono qui, mirati al centro, eccoci. Senti Fra Antonio, tu poi hai cominciato, tu conoscevi bene San Francesco, ci hai detto, ci hai raccontato che comunque eri entrato a far parte sia della gioventù francescana che nel terzo ordine, ma cosa ti ha affascinato di più del Santo Tia Sisi? Beh, la conoscenza di sì, io ero una gifra, a 18 anni sono stato come qualche monello, fra cui tu, con grande simpatia, tempo fa hai scritto, il primo presidente provinciale della gifra unita di Foggia, fino al 76 c'erano ancora gifra maschile e gifra femminile, il primo imperatore dei sessi accostati castamente. E io credo che Francesca Nessimo sia croce, predicazione della croce, come dice San Paolo, ai Corinzi dice, quando sono venuti in mezzo a voi cari Corinzi, che siete filosofi, siete di gente ricca, gente di commercio, io non venni in mezzo a voi con discorsi persuasivi di pazienza, io ritengo di non sapere altro in mezzo a voi, sono Gesù Cristo e questi crocipisso. Francesco D'Assisi e padre Pio e suo figlio a letto sono croce in atto, croce profumata di offerta del proprio corpo insieme a quello di Cristo. Ecco, Frantonio, tu poi dopo la tua scelta, la tua decisione, la tua risposta, hai cominciato il cammino di formazione all'interno appunto dell'ordine dei frati minori cappuccini. Noi quando abbiamo pensato questa rubrica abbiamo anche pensato soprattutto per aiutare i giovani che ci seguono, soprattutto far comprendere che c'è anche un cammino che viene accompagnato anche da qualcun altro, da una guida, da un padre spirituale. Ci sono delle figure, oltre ai santi, che hanno caratterizzato la tua vocazione di figure di frati, di laici, che ti hanno aiutato e accompagnato. Se io dimenticavo una cosa prima, la dico velocemente, quindi sono entrato naturalmente nei cappuccini, ho avuto qualche ora di dubbio ad Assisi, perché la bellezza di Assisi c'è forse, pensai per un attimo di entrare fra i frati minori, ma poi trovai anche un'altra grande donna, un'altra Clarissa, che adesso è Badessa a Nociera Inferiore, suor Chiara Cristiana Stoppa, allora non vedo una tv, manco la radio Padre Pio, ma insomma la saluto, tra l'altro è stata la prima Badessa di Monazie Romatele Ecclesie, nelle mura vaticane, fondata da Giovanni Paolo II, e lei mi disse, proprio come la voce di Dio, ma se tu sei cresciuto fra i cappuccini, ma era quello, e allora in questa famiglia che già mi apparteneva a cui appartenevo, certamente vuoi ricordare il padre Rufino, meglio il mio, comunque un po' ricordarlo, che è una delle figure proprio, a me mancano tre padri, mi manca Papa Nicola, mi manca Giovanni Paolo II e mi manca Rufino, Paolo Rufino, allo stesso modo, ma ovviamente non posso far risuscitare nessuno dei tre e dare la mia vita per Benedetto XVI, inteso, quando sento, ah io ho ancora, che rimpiangi, Giovanni Paolo si guarda dall'alto, Benedice il Pontefice, eccetera, però c'è io darei la vita per il Romano Pontefice, come giusto che sia, tuttavia Rufino è stato uno di quelli che mi ha aiutato molto e poi certamente a livello dei nostri anni giovanili, sia come formatore, insomma, fra Mariano Di Vito e fra Lorenzo Invidia, i miei formatori a Bari, in grosso modo questi, mi spuggerà qualcuno certamente. Per questo è importante anche. E poi, ecco, circa la necessità di una guida. Direi, io seguo molto questa, cito facilmente questa cosa immensa di San Tommaso d'Aquino, che grazia non destruit, se supponit, ac perficit natura, ma la grazia, ci sta due o tre che non sta nel latino, lo diciamo, la grazia non distrugge la natura, ma la presuppone e la perfeziona. Se per andare tu, giovane, con le gambe buone, tanta salute, con vent'anni e quindi pieno di energia, ma sparti dalla Puglia, ipotesi, e vuoi andare sul Monte Civetta, che è una delle cime delle Dolomiti, no? Vuoi andare lì sopra, ti serve la guida, che ti dice poi in Isola del Passo, ti cambia la prima conversione, ti cambia il passo di pianura che è veloce, nel passo lento e cadenzato della montagna, ti dice cosa evitare, come arrampicarti con tre punti fissi, due piedi e una mano, due mani e un piede, sul cammino un poco, sulla ferrata, sul cammino roccioso, insomma, ti porta in cima. La natura ci insegna a comprendere. Se abbiamo bisogno di una guida per andare sulla montagna, anche per salire al Santo Monte, che è il cuore del Cristo, occorre qualche guida. Ecco, Ferenzo Antonio, poi dicevamo gli studi, hai proseguito gli studi per cominciare questa tua avventura, che ti hanno portato poi alla professione perpetua e poi al sacerdozio. Quest'anno ricorre anche un importante anniversario, perché prima del tuo arrivo facevo un po' di conti, mi ricordavo che eri diacono nell'87, qui quando arrivo Giovanni Paolo II. Quest'anno sono 26 anni, per i tuoi sono 25. Questo è stato il conto. Eh sì, questo è stato il mio conto. Un conto molto... Un po'... Alla femminina si dice, il conto della cameriera, ma nel senso concreto, pratico. Sì, sì, perciò quest'anno ricorrono i 25 anni della tua ordinazione presbiterale. Sì, 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 sì. Il maggio prossimo... A maggio ci sarà questo... Non so se vai dall'ordinazione presbiterale, nel senso che il vescovo... Il vescovo era Castelli, Raffaella Castelli, che era vescovo di Lucera, amministratore apostolico a Foggia, tu sei foggiana, perché era andato via nel maggio dell'88, Monsignor De Giorgi, non ancora arrivava il Monsignor Casale, grandi vescovi entrambi, il secondo l'ho conosciuto molto bene, grande vescovo, parente, aveva detto che Foggia si stava corrompendo 25 anni fa e gli hanno urlato dietro, aveva ragione lui. Foggia ha passato le feste sotto un manto osceno di immondizia, senza che i cittadini protestassero, questa è la cosa più oscena. Ci usa parentesi per cambiare Foggia, come tutta la nostra terra. E dunque, esattamente così, è il vescovo, appunto, Castelli, che era amministratore temporanea, il manifesto apostolico si dice, di Foggia, nel momento dell'ordinazione si è sbagliato, è tutto registrato, e dice, scegliamo che se nostro fratello Antonio avrebbe dovuto dire per il sacro ordine del presbiterato, ma disse per il sacro ordine dell'episcopato. Non sappiamo se è una profezia. E tutti i frati dissero... Potrebbe anche essere stata una profezia, non si sa mai. Ma la cosa forte è che io stavo piangendo come un bambino per gratitudine, perché ricordavo la scena del 75 che abbiamo narrato, questo signore americano che poi ho rivisto, piangevo e dicevo tu, ma hai fatto cadere addosso una parola da uno sconosciuto, conosciuto da due giorni, tu diventerai sacerdote e adesso si sta realizzando. Anziché chiudere il cerchio, e non lo so se ha rilanciato il vescovo, come si fa a pochi ora ha rilanciato Dio, non lo so, non mi interessa. Poi chiesi quel giorno di rivedere Bill Wales e l'ho rivisto. Quando mi fece, diciamo così, la profezia che Dio si trattò, era appena diventato papà, l'ho rivisto nel 99, l'ho trovato tramite i frati americani, con grande... L'ho rivisto a Pittsburgh, Pennsylvania, e lui era appena diventato nonno. Ah, nonno. Era un giovane nonno, quindi una cosa... Ecco, e da quel momento poi è cominciato il tuo ministero sacerdotale che ti ha portato in tanti impegni, in tanti settori, soprattutto quello dei giovani, ti ha sempre un po' caratterizzato, dei giovani, lo abbiamo detto prima, della gioventù francescana e del terzo ordine. Tu prima hai detto a cui vuoi molto bene, sei molto legato e a cui credi molto. Essendo stato anche tu, giovane francescano, terziario francescono, in più, proprio come assistente, la tua avvicinanza, la tua guida spirituale anche ai giovani e ai terziari. Ti ringrazio per la domanda. Ma vedi, non c'è soltanto la nostalgia e genitore, la mia esperienza, c'è la teologia. Cioè io sono convinto che Francesco d'Assisi, non soltanto un grande santo, ma era un uomo geniale e ha avuto nel 1200 questa intuizione straordinaria del terzio sordo. Cioè, ha decreto un Graziani, che è un documento importante, era un giurista Graziani, ha scritto la concordanza discordancium canum, la concordanza dei canoni apparentemente opposti, canoni sono le norme della Chiesa Cattolica, gli articoli dei codici della legislazione civile. E allora questo Graziano scriveva, duo sunt ordina perfezionum, ordo monacorum, ordo clericorum, la perfezione per i monaci e i chierici. E i laici? Pattume ecclesiale, usa un'espressione forte. San Francesco ha capito, è stato mandato da Dio per dare a tutti una regola di vita, dunque per dire ai laici, il Vangelo non è roba da preti, il Vangelo è roba dei cristiani. Tutti possiamo vivere il Vangelo. In questo c'è anche il recupero che ha fatto il concilio, dalla teologia del lecato, del sacerdozio battesimale, non è ancora compiuto questo recupero, ancora c'è una sottovalutazione dei laici, ma da parte dei laici stessi molte volte, quando i laici, quando i miei fratelli dell'Obsa a volte litigano quasi per mettersi un'alba e stare sul presbiterio. A me viene in mente un grande terziario francescano, Tonino Bello, vescovo, quindi chierico, ma terziario francescano, come è possibile per i chierici secolari essere, che diceva laici, la vostra missione non è affollare i presbiteri, e cioè dove si celebra la messa, ma cresimare la navata del mondo. Questa è una teologia di Vangelo, una teologia che è ancora più attuale nel momento della nuova evangelizzazione, che è un paradigma nuovo, che secondo me è come la riforma gregoriana nell'undicesimo e dodicesimo secolo, i tempi di Francesco e Domenico, ed è qualcosa che durerà 70, 80, 100 anni, non lo so. E qui dobbiamo anche muoverci, perché abbiamo tutto, compreso il sangue di Padre Pio di San Francesco, compreso i mosaici di Rupnik, dobbiamo muoverci, frati, Clarisse, Laici, Tereradio Padre Pio, perché la nuova evangelizzazione è cominciata, ma non deve passare sulle nostre teste, deve passare per le nostre mani, per il nostro sudore. Grazie per quello che hai detto, per quello che sei tornato, perché è giusto, anche perché molte volte ci ritroviamo proprio a parlare anche con i frati della splendida intuizione di Francesco, appunto quella del dono della fraternità che sia tra i frati, tra le sorelle Clarisse e naturalmente anche il terzo ordine e i Laici, splendida intuizione di Francesco che è ancora attuale e che sicuramente lo sarà in futuro. Frati Antonio, tu sei conosciuto anche con un altro nome, frate Poco, perché? È sempre legato al terzo ordine, è un grande, è un grande frate, è un grande assistente. Frate che era Vincenzo Frezza, che è morto nell'83 e che fra l'altro è stato anche guardiano nel nostro convento storico di Sant'Anna, da Foggia. In quei pochi anni che è passato in provincia, perché è stato spesso a Roma, è stato molto a lungo a Roma. E che se ne scrive, che hanno scritto cose inesatte, è il vero fondatore della gioventù francescana d'Italia. Perché nell'aprile del 48, l'aprile del 48 ci fu l'inizio ufficiale con l'impatto federativo della gioventù francescana d'Italia, fatto a Piazza della Consolazione, il nostro convento a Roma, con tre fraternità che erano Ascoli Piceno, Montughi, Firenze, Montughi e Milano. E poi uno o due giorni dopo aderi Sant'Anna di Foggia, quindi stella della provincia, della gifra della provincia. E voglio dire, quale fu l'intenzione di Vincenzo Frezza? Lo scrisse in un articolo pubblicato su Terzio Sordo, una rivista magnifica che purtroppo hanno deciso di chiudere qualche anno fa, un articolo dell'81, quindi poco prima di morire, I miei 30 anni con la gifra, in cui parla di una preistoria francescana, dei conventi di Campobasso, di Foggia e di tutti questi giovani che stavano attorno. Quale fu l'intuizione sua? Ne parliamo durante la guerra, il 45-46, questi anni qua. L'intuizione di Vincenzo fu di non mandare questi giovani come i vescovi chiedevano nell'azione cattolica, ma visto che stavano legati a noi e che respiravano Santo Francesco, di metterli sotto l'ombrello carismatico che poi la Chiesa ha voluto forse anche giuridico, sotto l'ombrello carismatico giuridico del laicato francescano. Il titolo VII delle Costituzioni dell'OS, approvate dalla Chiesa, le nuove Costituzioni, è titolato la gioventù francescana, la gioventù francescana è legata ai francescani secolari, con un intreccio di delegati, con delle norme giuridiche, ma soprattutto è legata carismaticamente, il diritto non fa che mettere in opera con un linguaggio di esigibilità dei diritti e doveri ciò che è una comunione profonda e spirituale. Vincenzo Frezza è stato quest'uomo, io l'ho visto come assistente nazionale, è uno di quelli che mi ha allevato, ecco non l'ho citato prima, l'ho uscito adesso e quando mi chiamarono, appena 36enne, perché a quell'età insomma è un po' giovane per fare quel lavoro, ero segretario della provincia qui a Foggia, mi chiamarono essere assistente nazionale dell'OS della Gifra, ebbe un'intuizione e dissi a Fra Massimo Montagano che è nipote di sangue di Vincenzo Frezza, sono di Casa Calenda, Morise, tutti e due, e si crede a tuo zio dispiacerebbe se io facessi rivivere questo simbolo, questo nome di Frate Fuoco, eravamo un pranzo di nozze, fra l'altro qualcuno di Sant'Anna che si sa, non mi ricordo chi, a Foggia, e lui si commosse perché un artista, il fratello Massimo, un uomo dal grande cuore, disse no penso che ne sarebbe orgoglioso. e da allora la mia mail, il sito, ecco io non mi faccio papo, ci sono un distrattone, c'è un sito che si chiama www.fratefuoco.it, e per non aprite trovate perché il mondo bruci di Vangelo, io già sono un po' infuocato per natura, poi Vincenzo era uno che infuocava, ci ha educati bene, poi quando sono stato assistente nazionale dico portiamo un po' di fuoco, come dice Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso. è il mio secondo libro di poesia ormai di molti anni fa, si chiama Il segreto del fuoco, dove il simbolo fondamentale è il rovetto ardente di Mosè, ne parla anche in questo periodo la lettera agli ebrei, ne parla anche la lettera agli ebrei, vi siete accostati non soltanto come Mosè al fuoco del rovetto, ma al Sinai, al fuoco di Dio che viene dal cielo a riempire di vita l'umanità attraverso il dono della legge. Bene, allora frate Antonio, con queste parole infuocate vogliamo lasciare un messaggio ai giovani che sono in ricerca vocazionale affinché anche questa nostra chiacchierata sia davvero di testimonianza per tanti che sono a casa, che sono in ricerca, anche per le famiglie dei giovani che sono in ricerca vocazionale, ma io aprirei anche proprio ai giovani che si stanno preparando per un momento importante, per una scelta importante della loro vita. Qual è il tuo messaggio? Il mio messaggio è, guardate, allarghiamo la parola vocazionale, è la vita la vocazione, allora fra i giovani sani che si innamorano, io ho fatto parte di questa gente, che si innamorano, che sono delusi, che ripigliano, che studiano, che fanno fatica a laurearsi, che poi si laureano, il Signore ne sceglie alcuni, è Lui che sceglie. Vocazione significa che nelle famiglie, nelle parrocchie, noi dobbiamo stare con le orecchie aperti a capire cosa il Signore ci chiede. Per alcuni chiede un dono diverso, che è quello della vita religiosa o è quello del sacerdozio diocesano. Per tutti gli altri c'è la vocazione al matrimonio, che non è di meno, è diversa, perché noi non saremmo qui se non avessimo avuto i genitori santi che si sono amati veramente, come dice il Vangelo. Quindi direi avere le orecchie aperte al Signore che chiama, perché nella Chiesa in ogni stato di vita siamo chiamati alla santità, ogni stato di vita è vocazionale. Chiaramente quando un giovane si sente chiamato a scelte di questo tipo, abbiamo le guide, abbiamo i frati, abbiamo i cammini, però non soltanto quello, per favore allarghiamo, dilatiamo la parola vocazionale, non restringiamola a un aspetto clericale o solo di vita religiosa. Bene, grazie Frantonio, grazie perché quest'oggi hai voluto aprire il tuo cuore, il tuo cassetto dei ricordi, anche tornando un po' indietro di poco con la mente. Auguri per questo anno particolare, questo anniversario, questi tuoi 25 anni di sacerdozio, auguri anche da tutti i nostri telespettatori. Un saluto, perché non ne abbiamo parlato, abbiamo avuto il tempo un'altra volta, ai miei studenti di diritto canonico della Repubblica Centrafricana e del Chad, che quest'anno per motivi politici non ho potuto vedere, ma sono già molti, anzi uno di essi sta a Roma per diventare professore di diritto canonico da quest'anno. Bene, magari cerchiamo anche altre volte di averti ospite, così possiamo ancora chiacchierare su quella che è la tua vocazione e il tuo ministero. Grazie davvero, ripeto, i nostri telespettatori ti saranno sicuramente vicini con la preghiera in questo anniversario. Grazie, pace e bene, l'appuntamento con un frate per amico per la prossima settimana.